Abba il potere, andava bene anche la forza, se andava entro la rossa, la forza potente andare bene, solito le batte il freno, vero il padre, il padre. Che fai alla fisca? Ah ma adesso so il pignacco e... E questo è il pignacco. Sempre il curto. Il curto è quello. Perché? Il curto è quello. Il curto è quello. Il curto è quello. Il curto è quello. Il curto è un frano. Il curto è un frano molto più. Un frano è un frano. Un prezzo è un frano. Un ritro è un piazza. Cos'è quello che aveva? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.